Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Iniziamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per presenza di personale su strada tra Sassomarconi e V1 variante in direzione sud. In A11 restano code attratti per traffico verso Firenze, tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. E arriviamo in Fipirico di attratti per viabilità esterna che non riceve verso Firenze, tra la Strassigna e Firenze e Scandicci. In cara già d'opposa tra la Strassigna e Ginestra, coda ad un chilometro per incidente. Sempre in direzione mare, coda per viabilità esterna che non riceve tra Pisa Aeroporto e Bivio di Ramazione Pisa raccordo Pisa Centro. Ricordiamo che è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali su gran parte delle strade della Toscana, l'elenco completo sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città aeroportana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!